Salve a tutti, continuiamo oggi il progetto dell'alimentatore da laboratorio Mark III con la prima parte relativa al dimensionamento dei dissipatori degli attivi che sono presenti su scheda, quindi stiamo parlando degli attivi del mezzo ponte e dei diodi di rettifica sul secondario. Prima di cominciare però bisogna fare alcune precisazioni. La prima è che il dimensionamento dei dissipatori degli attivi del mezzo ponte risulterà leggermente diverso rispetto al dimensionamento che abbiamo visto finora. Questo perché gli attivi ad alta tensione presentano alcune variabilità che dovranno essere debitamente tenute in conto. La seconda precisazione è che, al contrario di quanto detto nel precedente video, ovvero che la frequenza minima del mezzo ponte è di 50 kHz, in realtà ho deciso di scendere ulteriormente a una frequenza più ragionevole di 35 kHz. Questo perché, come avremo modo di vedere successivamente, le perdite di hard switching risultano essere davvero elevate e quindi aumentare la frequenza non risulta essere di nessun vantaggio. Io come sempre parto sparato per le alte frequenze, poi la pratica e l'esperienza dicono di scendere a frequenze più ragionevoli. Quindi, partendo dal dimensionamento dei dissipatori degli attivi del mezzo ponte, ho riportato qui i due casi, ovvero quello in cui scelgo di utilizzare due MOSFET in parallelo per ogni ramo e invece il caso in cui scelgo di utilizzare un solo IGBT per ogni ramo, in modo da poter effettuare un confronto. Quindi, analizzando prima il caso dei due MOSFET in parallelo, abbiamo che alla temperatura di 125 gradi, e questo è il fattore importante di cui parlavo, infatti i MOSFET ad alta tensione presentano una grande variazione di resistenza del canale all'aumentare della temperatura. Quindi, di cosa sto parlando? Il part number IRF540 ha una resistenza di canale a 25 gradi pari a 0,8 Ohm. Quindi, mettendo in parallelo due MOSFET, avremo una resistenza equivalente pari a 0,4 Ohm. Però, purtroppo, all'aumentare della temperatura, questa resistenza aumenta e al valore di 125 gradi, in pratica, raddoppia. Quindi torna al valore di 0,8 Ohm, come se in effetti ci fosse un solo attivo sul ramo del mezzo ponte. E quindi, banalmente, andando a calcolare le perdite di conduzione del MOSFET con la formula qui riportata sul foglio, abbiamo la resistenza equivalente di 0,8 Ohm moltiplicato per il quadrato della corrente IRMS che scorre nell'attivo. Questo valore è stato calcolato con LTSPICE, quindi risulta pari a 4,6 Ampere. E quindi il risultato è che le perdite di conduzione dei due MOSFET sono pari a 17 Watt. Per quanto riguarda invece le perdite di commutazione, abbiamo che da calcoli analitici e da simulazioni effettuate su LTSPICE, queste risultano essere pari a 14 Watt. Quindi, in totale, andando a sommare le perdite di conduzione e le perdite di commutazione, abbiamo che ogni ramo del mezzo ponte andrà a dissipare una potenza pari a 31 Watt. Per quanto riguarda invece le perdite, supponendo di voler utilizzare un IGBT, nello specifico il part number riportato sul foglio, abbiamo che sembra la temperatura di 125 gradi, perché anche questo componente presenta una variazione delle prestazioni in funzioni della temperatura, anche se ha un comportamento diverso rispetto al MOSFET, perché mentre la tensione ai capi di collettore ed emettitore diminuisce all'aumentare della temperatura, quindi si ha un vantaggio per quanto riguarda le perdite di conduzione, per quanto riguarda invece le perdite di commutazione, queste peggiorano enormemente all'aumentare della temperatura del componente. Quindi, supponendo di calcolare le perdite a 125 gradi, abbiamo che le perdite di conduzione sono pari alla tensione VCE di saturazione per la corrente media che scorre nell'attivo. Da notare quindi che questa volta bisogna prendere in considerazione la corrente media rispetto al MOSFET dove si prende in considerazione la corrente IRMS, perché il fenomeno di perdita è diverso fisicamente, perché qui risulta essere di tipo resistivo, mentre qui risulta essere di caduta di potenziale. E quindi dobbiamo effettuare la moltiplicazione di 2,2 V, valore che viene preso dal datasheet, per la corrente media che è stata calcolata su LTSPICE, quindi 2,7 A. E il risultato è pari a 6 Watt. Per quanto riguarda invece le perdite di commutazione, queste saranno pari all'energia di spegnimento dell'IGBT per la frequenza di commutazione. Quest'energia di spegnimento è in funzione della tensione della corrente e della temperatura, quindi è un valore abbastanza complicato da ricavare analiticamente, ma si può invece facilmente estrapolare dai grafici che sono riportati sul datasheet. In questa formula inoltre non è presente l'energia di accensione, in quanto in questa specifica applicazione risulta essere trascurabile. Quindi dal datasheet si ricava che l'energia di spegnimento è pari a 35 micro joule, che moltiplicata per la frequenza di commutazione dà un valore di perdite di commutazione pari a 12 Watt. E quindi sommando le perdite di conduzione con le perdite di commutazione, abbiamo che le perdite totali per ogni GBT del ponte saranno pari a 18 Watt. Una volta ottenuti quindi i valori di perdita nei due casi, possiamo effettuare un confronto. e come risulta abbastanza evidente, abbiamo che nel caso in cui utilizzassimo due MOSFET per ogni ramo, le perdite sarebbero di 31 Watt, mentre nel caso in cui utilizzassimo un solo i GBT per ramo, avremo delle perdite pari a 18 Watt. Quindi in questo caso le perdite sono quasi doppie a questo e quindi in pratica non c'è partita. In questa applicazione andremo ad utilizzare degli i GBT. E quindi una volta effettuata questa scelta sono andato a dimensionare il dissipatore dell'attivo tenendo conto delle perdite che siamo andati a calcolare. Quindi 18 Watt ed ecco il risultato. Quindi questo risulta l'IGBT mondato sulla letta di dissipazione che è abbastanza grande e per l'appunto dovrà dissipare una bella quantità di energia. Ho effettuato anche delle simulazioni numeriche e quindi come si può vedere dal risultato, la temperatura massima a 18 Watt è pari a 93 gradi, quindi inferiore a 125 e non c'è quindi il pericolo che la temperatura possa divergere fino alla distruzione dell'attivo. C'è da dire che a causa delle dimensioni abbiamo che il punto di temperatura minore del dissipatore si raggiunge qui in cima ed è pari a 73 gradi. Quindi non è perfettamente uniforme nella dissipazione ma questo è dovuto alle elevate dimensioni. Ho cercato di utilizzare un dissipatore con sezione abbastanza grossa quindi due millimetri e mezzo però non è risultato sufficiente per uniformare il calore ma dopo tutto l'importante è che funzioni correttamente. Passiamo ora invece al dimensionamento dei dissipatori per i diodi di secondario, quindi ho scelto di utilizzare dei diodi Schottky, nello specifico il part number MBR30100, quindi è un diodo in package TO220 che riesce a portare una corrente massima di 30A e regge una tensione di 100V, quindi risulta un part number più che adeguato per questa applicazione. Il calcolo delle perdite si effettua banalmente utilizzando questa formula. Quindi abbiamo che la corrente massima che scorre all'interno di ogni diodo è pari alla corrente massima di uscita del convertitore. Però essendo che sono montati in modalità di ponte intero in realtà la corrente massima passerà solo per metà periodo, quindi è come se ne passasse la metà. Questa moltiplicata per la caduta di tensione del diodo, quindi essendo un diodo Schottky sarà una tensione molto bassa che è pari a 0,7V. Quindi abbiamo che 25A diviso 2 è pari a 12,5A. Moltiplicata per 0,7 otteniamo che la potenza massima che viene dissipata da ciascun diodo è pari a 9W. E con questo valore sono andato a dimensionare quest'altro dissipatore. Quindi qui abbiamo montato il diodo e queste sono le dimensioni del dissipatore, che risulta essere sufficiente a dissipare una potenza di 9W. Infatti anche qui ho effettuato una simulazione numerica e come risulta evidente abbiamo che la temperatura massima è di 74 gradi, mentre la temperatura minima che si raggiunge nell'estremità opposta è di 64. Quindi questa volta il calore è più uniforme rispetto al caso precedente, però è perché le dimensioni massime della lette sono diverse. Qui era più lunga mentre qui è più compatta e quindi risulta più che sufficiente a dissipare questa quantità di calore. Infatti siamo abbondantemente sotto la soglia dei 100 gradi. Molto bene, quindi questo è tutto quello che è stato fatto per il dimensionamento dei dissipatori degli attivi che sono presenti nel convertitore. Per questo video quindi è tutto, alla prossima!